Devo cambiare l'auto. Io voglio una cucina nuova. Ehi papà, mi compri lo scooter? Come faccio con tutte queste spese? Ho trovato la soluzione. Euro 7, servizi finanziari. Finanziamenti per tutti, anche pensionati. Da 15.000 a 35.000 euro. Telefona subito allo 011 40 80 448 per un preventivo gratuito e senza impegno. Grazie a tutti.